Nel nuovo movimento il PD sarà sicuramente un interlocutore privilegiato, come ho detto si apre un cantiere e ci sarà un dialogo costante. Dobbiamo lavorare per confrontarci costantemente, per creare una giusta sinergia, perché chi va da solo ovviamente rischia di essere meno efficace e meno efficiente. E già a partire dalle elezioni amministrative prossime ci sarà sicuramente, e c'è la volontà, di confrontarci per trovare delle soluzioni che siano ancora più efficaci per la soluzione dei problemi delle comunità.